Le dimissioni non sono mai un atto a cuor leggero, sicuramente sono sempre situazioni sopperte, però io l'ho fatto con la serenità di sempre per un atto di responsabilità nei confronti della regione molisse, ma soprattutto nei confronti dei cittadini della regione molisse. Il problema quindi è il partito di Cefaratti, orgoglio molino se mi sembra. Ma il problema era di Orgoglio Molise, perché Cefaratti era un delegato mio in presenza all'interno della prima commissione. Il dovere era di risolvere il problema all'interno di Orgoglio Molise e io avevo il dovere, ripeto, e la responsabilità di farlo. Ho chiesto al collega Cefaratti di poter andare in presenza alla prima commissione per poter andare avanti con i lavori, non di votare o non votare, ma di essere solo presenti. Evidentemente ha ritenuto di non essere presenti, quindi sono stato costretto. Sesso non è ancora di Orgoglio Molise.